La fiera di Pordenone è tornata ad aprire le proprie porte al ciclismo in occasione della partenza della quarta edizione del Trofeo Emozione. E a salutare la carovana guidata dalla presidente Adolfo Sacchetto e dal direttore sportivo Andrea Favotte è stato l'assessore allo sport della comune di Pordenone Walter De Bortoli. Quattro anni fa nessuno pensava di arrivare a questo punto, grazie agli organizzatori, al presidente Sacchetto e al vicepresidente, direttore sportivo Favotte Andrea hanno dato questa immagine sportiva e professionale che cresce sempre di più sia nella quantità ma anche nella qualità. E dunque vediamo squadre di grande titolarità che partecipano a questa manifestazione, dunque la qualità è molto alta e vediamo che i ragazzi lo sanno che è una tappa molto 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 faticosa e fatta apposta perché abbiamo questo obiettivo di far capire al mondo che la fatica si fa in salita. E noi lo facciamo per lo sport ma c'è molta gente, molti amici purtroppo che la fanno per la vita e dunque questo è un insegnamento ai nostri giovani ragazzi che questo Trofeo Emozione, si chiama proprio Emozione per questo, deve emozionarci quando vediamo un ragazzo fare fatica come farà oggi a fare questi chilometri sotto questa temperatura incredibile. Mi sono convinto che per questa ragione questa manifestazione quarto Trofeo Emozione di Pordenone dovrà continuare e sicuramente non potrà che crescere sia nella qualità sportiva ma anche nella partecipazione internazionale grazie a questa staff del Trofeo Emozione che ormai ho collaudato e che riesce a portare a casa grandi grandi eventi come questi. Un centinaio gli atleti in gara mentre con le nostre immagini siamo già al chilometro zero posto nella comune di Zoppola dove ad abbassare la bandiera a scacchi della via è stata la prima cittadina Francesca Papais. Si corre in un pomeriggio dalle temperature decisamente estive ma gli atleti partono subito con il giusto piglio con una andatura subito molto elevata. Ci si dirige velocemente verso il primo traguardo volante posto a Domanins dopo appena 6 chilometri e dopo questo passaggio ad evadere dal gruppo è un drappello di 8 corridori. A comporre il gruppetto dei fuggitivi sono Gioele Faggianato della Gottardo Giochi Caneva, quindi Riccardo Biondani dell'Autozai Petrucci Contri, Mattia Santini della US Monte Corona, Kim Younes della UC Giorgione, il nazionale argentino Matteo Duque Cano, quindi l'olandese Steph Koenig della Wielerzone Nederland, Davide Zaglioni della Sally Steffen e Niccolò Birello della Borgo Molino Vigna Fiorita. Si transita anche al traguardo volante di Pinzano al tagliamento dove a passare per primo è proprio l'argentino Matteo Duque Cano e per questi 8 battistrada c'è già un vantaggio importante sul gruppo in seguitore. Quando si va infatti ad imboccare la salita che conduce verso il primo Gran Premio della Montagna posto a Clausetto, i battistrada viaggiano con due minuti sul resto della corsa. A portarsi in testa al gruppo a questo punto sono le maglie della Sally Steffen Macro che guidano l'inseguimento. In testa alla corsa intanto rimangono in tre quando ci avviciniamo al Gran Premio della Montagna. Si tratta di Niccolò Birello, Borgo Molino Vigna Fiorita che va a scattare per transitare per primo sulla vetta di Clausetto. Alla sua inseguimento in sua compagnia anche il nazionale argentino Matteo Duque Cano e l'olandese Steph Koenig. Nel corso della discesa una caduta coinvolge l'argentino Duque Cano che quindi perde contatto dalla testa della corsa. Al comando rimangono Niccolò Birello e Steph Koenig. Questi due corridori tornano in pianura e viaggiano con circa 45 secondi di vantaggio su un gruppo lanciato a questo punto al loro inseguimento. Restano da scalare oltre alla Gran Premio della Montagna di Forcella-Caupa la salita finale che condurrà sul traguardo di Piancavallo. Dunque ancora tante difficoltà sulla strada dei corridori e vedete che intanto il gruppo principale rimane composto da una quarantina di corridori. Sono questi che hanno fatto la differenza su Clausetto e che ora vanno all'inseguimento dei due battistrada. Scatenato in salita l'olandese Steph Koenig che lascia anche la compagnia di Niccolò Birello e si invola tutto solo verso il Gran Premio della Montagna di Forcella-Caupa. All'inseguimento di questi corridori intanto iniziano a muoversi i big, gli atleti più attesi. Il passaggio intanto alla Gran Premio della Montagna di Koenig vedete molto affaticato oltre che dal grande caldo anche per le salite già affrontate. All'inseguimento di Koenig dicevamo iniziano a muoversi i più attesi della vigilia ed è così che si va a comporre un nuovo trappello in testa. Quando siamo al passaggio spettacolare sul ponte di Monte Reale-Valcellina si va a transitare proprio sulla torrente Cellina dove tanti turisti anche in questo sabato pomeriggio d'estate stanno godendo della frescura delle acque della Cellina. Va a comporsi dicevamo un trappello che è il gruppo che caratterizzerà il finale di corsa. Si va a lambire il lago di Barchis per dirigersi verso le rampe che conducono alla Piancavallo. A condurre la gara sono otto corridori. Si tratta di Alessandro da Ross, della SC Fontana Fredda, Alan Flocco, della Gottardo Giochi Caneva, Diego Bracalente, della SCAP Trodica di Morrovalle, Gabriele Simonetto e Leonardo Volpato della UC Giorgione, l'olandese Steph Koenig che abbiamo visto in fuga sin dalle battute iniziali e quindi la coppia della Borgomolino Vigna Fiorita composta da Matteo Rapporti e Matteo Scalco. Questi otto corridori iniziano la salita finale con un vantaggio piuttosto importante sugli inseguitori che si aggira attorno ai due minuti. Sulle prime rampe della Piancavallo a dettare il ritmo è Gabriele Simonetto, della UC Giorgione, che si mette al servizio del compagno di squadra e quando siamo già al cartello dei 10 km all'arrivo rimangono in quattro a guidare la quarta edizione della Trofeo Emozione. Si tratta di Diego Bracalente, della Trodica di Morrovalle, quindi con lui Leonardo Volpato del Giorgione, Matteo Scalco della Borgomolino Vigna Fiorita e Alessandro da Ross della Fontana Fredda. Questi quattro atleti salgono con un buon ritmo, distanziano tutti gli inseguitori e iniziano a studiarsi in vista del finale di corsa. Infatti questa salita che conduce verso il Piancavallo presenta le rampe più impegnative nella prima parte e poi invece strade molto più leggere, quelle che si avvicinano al traguardo finale. Con le nostre immagini dall'alto siamo già nell'ultimo chilometro quando ad allungare con decisione Alessandro da Ross che riesce a guadagnare un centinaio di metri sugli ex compagni d'avventura. Su di lui tenta di riportarsi tutto solo Matteo Scalco ma ormai è troppo tardi. Infatti Alessandro da Ross si presenta sul rettifilo d'arrivo in perfetta solitudine e va a cogliere la seconda affermazione stagionale. Seconda piazza invece per un generosissimo Matteo Scalco. Seguono Diego Bracalente, Leonardo Volpato, Matteo Rapporti, Andrea De Marchi, Tommaso Brunori, Bren Vammarion, Gabriele Simonetto e Alan Flocco. Eri davanti con uomini che non erano certo facili da staccare. Ci sei riuscito e segno che hai una condizione veramente strepitosa in queste ultime settimane. Sì, diciamo che la prima salita, quella del calosetto, l'abbiamo fatta forte a ritmo, siamo rimasti in una quarantina di corridori. Poi abbiamo fatto la salita delle cave, ha attaccato Matteo Scalco del Borgomolino, gli sono andato a ruota e siamo rimasti in quattro, cinque. Poi nella galleria che portava alla salita finale di Piancavallo si sono aggiunti altri corridori, eravamo una decina. Poi all'imbocco del Piancavallo siamo rimasti in quattro e siamo andati irregolari fino a metà. Poi ci sono stati vari scatti e controscatti e alla fine l'ultimo chilometro ho dato tutto e sono riuscito a vincere. Il fiato di Matteo Scalco sul collo, quando hai capito che oramai era fatta? Io sono partito ai meno 900 metri e ho visto che avevo guadagnato subito un centinaio di metri, ma poi gli ultimi 150 metri mi sono girato visto che Scalco era vicino, che si sta avvicinando sempre di più. Allora l'ultimo rettilino finale dopo la curva sinistra ho sprintato a tutta finché ne avevo e sono riuscito a batterlo. Dove pensa di arrivare Alessandro D'Aros con questi bei risultati che sta ottenendo? Non ho idea, ora resto basso nel senso che penso a queste gare qui, penso a divertirmi, è una bella categoria. Il resto, se verrà, ora non ci penso. Franco Pellizzotti, il trofeo emozione non ha deluso d'attese, ha regalato grande spettacolo e soprattutto il nome di un vincitore importante che riceverà un premio altrettanto importante. Sì, una gara innanzitutto splendida, organizzata veramente alla grande, ho seguito tutta la corsa in macchina e non ho trovato una macchina sul percorso, veramente bravi agli organizzatori perché oggi è un sabato, hanno anche percorso strade trafficate, invece organizzativamente nulla da dire. I ragazzi hanno dato tutto fino all'arrivo, un bellissimo arrivo quest'oggi, si sperava anche un po' più fresco, ma fa caldo anche qua sul piancavallo. Ho visto un bel finale, quattro ragazzi che se la sono giocata fino all'ultimo. Da rossa ha vinto, penso, meritatamente, ha corso molto bene, nel finale è stato il più bravo a cogliere l'attimo giusto. Direttore sportivo Andrea Favotto, io direi una salita molto tecnica questa da Barcis a piancavallo, una salita dura, il livello si è elevato ancora più per quanto riguarda questi ragazzi. I ragazzi che sono arrivati all'arrivo erano i predestinati per la vittoria, è bene che abbia vinto un ragazzo di casa, così sarà più felice di andare a fare il training camp con la Bahrain Vittorius. Adolfo Sacchetto, presidente ASD Emozione, organizzare una gara così non è semplice? Assolutamente no, non è semplice, ma è stato comunque abbastanza piacevole, anche se le difficoltà sono state tante lungo questo periodo di preparazione alla gara, sono stati più o meno 180 i volontari lungo tutto il percorso. Ringrazio la protezione civile, l'Associazione Nazionale Carabinieri e tutte le persone, i volontari, amici nostri, i vigili, la polizia municipale, la polizia stradale, i carabinieri che hanno partecipato lungo tutto il percorso. Una grande mobilitazione di persone, di feste, tutti i nostri partners, le moto che hanno lavorato con noi, i direttori di gara, i giudici, voi giornalisti che avete reso onore a questo evento importante, alla televisione, è stato veramente bello, importante, siamo felici di questo risultato che ha portato a casa anche il nostro Friuli Venezia Giulia. Grazie.